Sono sei punti principali che in questa legislatura abbiamo messo in atto, il primo è il piano sociale che è importantissimo, un piano di sviluppo per le famiglie, ulteriori quattro leggi, la legge di prevenzione di violenza sessuale, due leggi nel tema dell'abitare pubblico e una legge importantissima dell'invecchiamento attivo. È stata una legislatura direi anche con tante crisi, con tante sfide, era la pandemia, la guerra ucraina, la migrazione e soprattutto adesso l'inflazione, ma vedo che con una rete in collaborazione con tanti servizi, con collaboratori anche che lavorano quasi 24 ore la giornata, si risolve quasi tutto e si va su questa base anche molto ottimisti nel futuro.